Musica Si è da poco conclusa la sfida di Coppa, la seconda giornata, il Mundial Football Club esce vincitore dal campo contro il Collesalario e noi abbiamo il mister Daniele Isidori, buonasera mister Buonasera, buonasera a tutti Prestazione molto convincente della squadra, soprattutto un primo tempo giocato a livelli eccezionali e il secondo gol sintetizza tutto questo Hai detto benissimo, penso che il primo tempo che abbiamo fatto sia stato il primo tempo più bello dall'inizio della stagione abbiamo giocato con una intensità, con una qualità, con un fraseggio eccellente il secondo gol è l'esempio classico di quello che abbiamo prodotto nel primo tempo dove abbiamo chiuso sul 2 a 0, 2 a 1 scusami, ma potevamo stare molto più larghi come punteggio quindi dimostra il percorso che stiamo facendo e quello giusto perché stiamo lavorando, come ho detto domenica al tuo collega, su queste cose qua e i ragazzi cominciano a crederci veramente Il suo lapsus sul punteggio mi fa venire in mente una cosa che in questa partita il Mundial ha quasi sempre dominato, soprattutto il primo tempo come abbiamo detto e i due gol del Collesalario in realtà sono arrivati su delle circostanze abbastanza isolate il primo una mischia e il secondo è stata un'invenzione invece di negro Sì, è come dici tu, io sinceramente non ricordavo perché proprio è andato da una mischia un po' fortuita e avevo proprio perso di mente come era venuto Il secondo è stato il tiro della domenica, un po' dopo centrocampo siamo stati un po' sfortunati, diciamo così però ecco, i ragazzi non hanno smesso di giocare, non hanno smesso di giocare con quella personalità e questa è la cosa che mi rende più felice questa sera dopo questa partita E adesso testa di nuovo al campionato dove si cerca la quarta vittoria di fila perché è un buon momento per il Mundial Sì, sì, anche se secondo me, ho già detto ieri a un tuo collega che arriva la partita forse più difficile e nel momento più importante Sarà una partita dove i ragazzi dovranno giocarla prima con la testa e poi con i piedi Andremo a giocare su un campo molto difficile, su un ambiente importante un campo non insintetico Sarà una battaglia ma noi andiamo lì per cercare di continuare la strada che abbiamo preso Grazie ai mister Grazie a te, grazie